Ciao a tutti community! Prima di iniziare col video ci tenevo a presentarvi un prodotto che adoro. Si tratta della frigitrice ad aria Cosore Turbo Blaze da 6 litri. Con questa frigitrice si può fare veramente di tutto. Ha delle opzioni che non ho mai visto in altre frigitrici ad aria, ad esempio l'ampia gamma di controllo della temperatura che varia da 30 gradi a 230 gradi, mentre le altre frigitrici ad aria normalmente arrivano a massimo 205 gradi. Inoltre una cosa sbalorditiva che quando ho letto sono rimasta stupita è che può cuocere fino a 24 ore rispetto ai 60 minuti delle frigitrici ad aria tradizionali. Ha diverse funzioni e devo essere sincera la prima volta che le vedo. Ad esempio sono incuriosita dalla funzione grill, dall'essiccatore dry e dalla lievitazione proof. Cosore Turbo Blaze è dotata di una griglia da inserire all'interno del cestello che è molto capiente. È un manuale di ricette utilissimo. All'interno ci sono tutte le indicazioni di cottura per ciascun alimento, quindi non vi potete sbagliare. Inoltre potete scaricare anche l'app dove troverete all'interno tante ricette. Se siete interessati a questo prodotto vi lascio tutti i dettagli sotto in descrizione e il link diretto per l'acquisto. Ma ora vi faccio vedere a livello pratico delle ricette tutte squisite, veloci e salutari che ho realizzato partendo dalla colazione. Per colazione ho preparato in soli 10 minuti questo tortino delizioso e salutare. La ricetta però l'ho trovata sul web ma ho fatto delle varianti. Gli ingredienti sono 250 g di ricotta, un uovo, un cucchiaio di miele e un cucchiaio di fecola di patate. Ho mischiato tutto bene e versato negli stampini appositi ricoperti con carta forno bagnata. E' importante eliminare l'eccesso di carta forno per una questione di sicurezza. E poi infornare con la funzione bake per 10 minuti. Al termine sfornare e lasciare raffreddare. Una volta freddi ricoprire di marmellata a vostro piacimento. Io ho messo quella di fragole e sopra ci ho messo delle fettine di banana. Cospargete infine con succo d'acero. Veramente uno spettacolo sia alla vista che al gusto. Per pranzo ho fatto due piatti veloci, leggeri e salutari. Patatine fritte e pizza di melanzane. Tagliate prima di tutto le patatine a fette e mettere in ammollo per 10 minuti. Poi asciugarle bene e condire con un cucchiaio d'olio e spezie a piacere. Fare cuocere per 10 minuti in modalità air fryer finché non saranno ben dorate. Guardate che bontà! Prendiamo poi le melanzane e tagliamo delle fettine di mezzo centimetro. Mettiamo a cuocere in frittrice ad aria a 180 gradi per 10 minuti. Trascorsi 10 minuti aggiungiamo il sugo che avremo condito con olio, origano e sale. Altri 5 minuti e poi aggiungiamo la mozzarella ad adini. Se mi seguite da tempo sapete che amo la frittrice ad aria. Io è da anni che la utilizzo e per me è o mai più senza. Dopo ancora 5 minuti di cottura saranno pronte. E questo è il piatto finito, leggero e super invitante. Vi faccio vedere velocemente altre ricette che ho realizzato, ad esempio melanzane grigliate che in parte ho messo sulla pizza e le restanti le ho condite con olio, aceto e sale per accompagnare dei secondi piatti. Poi ho fatto anche il baccalà fritto, che ha una morbidezza all'interno pazzesca, oltre a essere super leggero e digeribile. Io ci tengo molto almeno in settimana a consumare dei cibi leggeri e digeribili e in questo la friggitrice ad aria a me dà una grande mano. Insomma potete sbizzarrirvi come volete con tantissime ricette. Grazie a tutti. Continuiamo col video per mostrarvi i 12 consigli indispensabili per organizzare una cucina piccola. Il primo suggerimento è di cercare di creare una mini dispensa se abbiamo un piccolo ripostiglio. Ora riorganizzeremo tutto insieme perché c'è molto disordine e vi dirò i miei trucchi affinché tutto diventi più ordinato. 2. Importante svuotare completamente tutto il mobile da riorganizzare. 3. 6. 3. Igenizzare tutto e smacchiare prima di riporre nuovamente gli alimenti. Io questa volta ho utilizzato acqua e sgrassatore perché il mobile aveva delle macchie ostinate da eliminare. 4. Mettere da parte tutte quelle cose che sono già organizzate e non necessitano di essere ottimizzate a livello di spazio. 5. Lavare tutti i contenitori. 6. Organizza i prodotti raggruppandoli con logica e per categoria. 7. Ordine i prodotti per categoria. 8. 9. 10. 11. 12. 12. 28. 23. 21. 23. 21. 24. 8. Riempire e integrare tutti i barattoli vuoti o semivuoti che si trovano in cucina, in modo da alleggerire la dispensa. 9. Eliminare tutte le confezioni di carta o di plastica in modo da alleggerire gli spazi. 10. Riempire. 10. Riempire. 10. Riempire. 11. Riempire. 12. Riempire. 12. Riempire. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Quando organizzo la dispensa ne approfitto sempre per rinnovare i legumi, infatti metto sempre via delle quantità da cucinare che poi congelerò e nei contenitori ora vuoti metterò i legumi acquistati di recente. 10. Mettere gli alimenti acquistati di recente in basso, come in questo caso i legumi nuovi, e in alto quelli da consumare per primi. 11. Tagliare la plastica in eccesso dalle confezioni. 12. Riorganizzare tutto per logica e creare un ambiente rilassante in cui cercare quello di cui abbiamo bisogno. Io spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Se sì, lasciatemi un cuore nei commenti. Vi auguro una dolce casa a tutti e vi aspetto al prossimo video.